Termina nel peggiore dei modi la trattativa per il passaggio societario del Marsala Football Club, militante nell'ultima posizione del campionato di promozione tra Vincenzo Norio ed Ettore Minore. Ieri botte risposta con tanto di comunicati stampa, in cui Minore giustifica il mancato esito favorevole del bonifico attraverso il quale avrebbe acquisito la società bonifico che partiva da Hong Kong. A suo dire ha avuto forniti i dati per eseguirlo in maniera errata dal segretario del Marsala Football Club, cosa che poi è stata smentita con un successivo comunicato stampa con delle dichiarazioni di Enzo Domingo. E' dunque una contro replica da parte di Minore che in base alle dichiarazioni di Domingo ha minacciato anche di adire alle vie legali e vuole rimborsati i soldi che ha anticipato per la trasferta e altre spese. Dunque quello che sostanzialmente però interessa ai tifosi è che la società del Marsala Football Club rimane in una estrema incertezza societaria e sembra proprio che il futuro sia molto nero.